Ambizione, personalità, coraggio. Il città di Taormina si è presentato alla stagione 2022-2023 senza nascondersi. Vuole essere tra i protagonisti del girone B del campionato di eccellenza, sfidando piazze come Siracusa, Barcellona, Pozzo di Gotte e Lentini, senza alcun timore reverenziale. Il primo approccio del campionato, del resto, ha mostrato come la compagine bianca-azzurra al netto di qualche imprevisto abbia subito lanciato un messaggio inequivocabile alla concorrenza, i sette punti attuali in tre giornate. Sarebbero potuti essere nove la vetta solitaria senza i tre minuti di blackout della sfida in casa dell'Acqua Dolcese, che rimonta dallo 0-2 al 2-2 sugli uomini di Marco Coppa. Un inciampo, però, trasformatosi in lezione imparata a memoria dalla squadra. Naturalmente quella partita ci ha fatto male, ci ha fatto anche e soprattutto pensare che non possiamo abbassare l'attenzione di un centimetro, praticamente. Siamo naturalmente rammaricati per i punti che abbiamo perso, però non ti nego che da subito abbiamo capito dove dovevamo lavorare e sistemare alcune cose. Quest'anno a Tormina si è creato un gruppo davvero importante. Abbiamo tantissima voglia di fare bene, c'è chi anche naturalmente l'anno scorso non è andata bene, quindi si vuole naturalmente rigiocare tutte le proprie situazioni. A guidare i taorminesi, mister Marco Coppa, che sta forgiando a sua immagine e somiglianza un gruppo coeso dentro e fuori dal campo. L'obiettivo è quello di crescere e di continuare a farlo. Sarebbe grave fermarsi o tornare indietro, ma non possiamo pretendere di essere già belli e concreti. In questo momento siamo stati soprattutto concreti, forse meno belli, però stiamo crescendo anche in termini di gioco. Un dato su tutti è un torneo che sarà combattuto dall'inizio alla fine e dall'alto verso il basso della classifica. Non è come gli ultimi anni, io credo che sia il campionato più equilibrato degli ultimi anni. Una squadra sostenuta da un club attento e desideroso di crescere e riportare il tifo taorminesi al baci galupo. L'inagibilità delle tribune dell'impianto però ormai da tempo costringe taorminesi a giocare senza il sostegno del pubblico amico. Ci sono nel nostro girone squadre importanti come Siracusa, Modica, Igea Virtus e qualche altra società che comunque sta venendo fuori. Nessuno me ne voglia, ma ci sono altre squadre anche importanti. Noi cercheremo sicuramente di dare il meglio. Impostare una squadra, inventarsi una squadra che voglia fare un buon campionato, che voglia fare le sue belle figure, le sue belle prestazioni, senza avere pubblico credo che sia solo dell'assurdo. Sono stato presente in qualche incontro che ha avuto il nostro direttore generale con l'assessore, con il sindaco qui a Taormina e hanno comunque risposto dicendo che avrebbero risolto il problema, anche se in parte. Perché per noi sarebbe importante giocare anche davanti a 200 persone, non stiamo cercando migliaia di persone.